Le associazioni ambientaliste giocano d'anticipo rispetto al comune capoluogo ancora fermo nella lotta allo smog e decidono di autotassarsi per installare 15 centraline mobili che rileveranno in tempo reale e in maniera dettagliata l'inquinamento dell'aria in città e nell'Interland. Per il consigliere d'opposizione Francesco Iandolo questa è un'altra sconfitta per l'amministrazione festa. Quando le associazioni cittadini decidono di partire è sempre un aspetto positivo. È normale che dopo il consiglio comunale del 4 gennaio si auspicava un cambio di passo da parte dell'amministrazione invece dobbiamo riscontrare insomma soltanto poche riunioni online ma senza nulla diciamo di particolarmente interessante. Il comune capoluogo doveva fare, avrebbe dovuto fare, speriamo faccia invece, dare accordo con tutti gli altri comuni dell'Interland anche per dire che non esiste aria vasta se non ci sarà una qualità della vita, una qualità dell'aria adeguata per la vivibilità della città e dell'Interland. È proprio sull'ambiente che questa giunta tuona ancora Iandolo segna clamorosamente il passo e quello obbrobrio di pista ciclabile poi fortunatamente sospesa ne è la prova tangibile. Sicuramente arrivano tanti atti, tante cose, quindi qualcosa può sfuggire. Però io in due anni non ho mai sentito una parola, non ho mai sentito chiedere scusa alla città e ai cittadini anche a fronte di errori, mancanze che ci possono essere, diciamo siamo tutti esseri umani.